Sono tre tipi di intervento, sono 15 milioni di euro, quindi un contributo molto significativo. Una parte, fino al massimo del 50%, i distretti potranno metterli sulle graduatorie già preesistenti del Fondo 2019, che però si sono chiuse a marzo, quindi sono molto fresche. La restante quota può essere destinata a due tipi di misure. Uno è il contributo diretto sull'affitto. Possono accedere dei nuclei familiari che abbiano reddito ISEE inferiore ai 35 mila euro, e anche quelli da 0 a 3 mila, che sono le famiglie che sono più in difficoltà. Nel caso invece, diciamo, delle famiglie tra i 3 e i 35 mila, sarà un contributo proporzionato al calo del reddito che si è avuto durante l'emergenza Covid. Quindi una persona che è andata in cassa integrazione, piuttosto che abbia perso il lavoro, un lavoratore stagionale, ecco, ci sono dei contributi graduati che arrivano fino a 1.500 euro per tre mensilità complessive di sostegno all'affitto. L'altro intervento è quello più innovativo. Le rinegoziazioni. Noi incentiviamo fortemente, in questo caso il contributo va al proprietario, non all'inquilino, le rinegoziazioni dei canoni a ribasso, a partire da una riduzione che deve essere almeno del 20%, e noi copriamo fino al 70% della riduzione del canone a seconda di quanto tempo si decide di rinegoziare. Per cui un minimo di sei mesi, però può essere anche un anno. Si può anche cambiare il contratto da libero mercato a canone concordato, anche questa è un'opzione molto incentivata, quella più incentivata però è quella di fare un nuovo contratto di canone concordato in un alloggio che in questo momento è vuoto. A chi è rivolta questa misura, specialmente a quei proprietari che utilizzavano i propri immobili per fare affitti brevi o turistici, che oggi hanno le case vuote. Quindi con un contributo in quel caso fino a 3.000 euro, copriamo fino al 50% del nuovo canone concordato. Naturalmente è una misura che guarda a chi ha bisogno, a questo limite di sé, a una proporzione al calo del reddito subito in pendenza Covid, però è una misura che allarga la platea anche a studenti o lavoratori che non abbiano la residenza nel comune dove vivono, proprio in considerazione delle difficoltà che hanno vissuto anche loro.